Ecco, sento la fonte di magia che mi trattiene a Midgard. Che posto è? Casa mia. Sono nata qui. Un momento. C'è qualcosa di strano. Opimbera. Radici dell'albero del mondo, annodate da Udino. Ecco come ha fatto. Dai! Dai! Freya! Nidhogg! La creatura è di Udino? No, protegge le radici di Yggdrasil, ovunque si trovi. Quel bastardo lo sapeva. Ora è la sua attenzione. Non perdersa. Non starte nell'infermo. Forza! Devo arrivare alle radici. Così! Non cede! Rascina là fuori dallo sforzo del reto! Non cede dell'Iggdrasil. Qui si tratta? Non cede! Non cede! Uzan, è ancora in mezzo Devo arrivare a quelle radici Lo so Alla prossima C'è l'ho! In tal caso... Forza! Finalmente! Sei libera! A Banai, sì. Ma ci sono altre radici. Li proteggerà a costo della donna. La tua ascia! Mira ai sigilli! Sì! Abbattila! Sì! Abbiamo! Sì! Abbiamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. I miei sigilli possono oblificare gli attacchi. Bruciala sul Trespo. Attacca dagli squarci del regno. La vedo. Usa l'Elao. Bruciala, veloce! Sì! Funziona! Ora è disperata! Sì, vieni di pronto a tutto. Sì, vieni di pronto. Sì, vieni di pronto. A destra! Colpo di scudo sulla coda! Sì, vieni di pronto. Stai caricando l'attacco. Fermano! Spice di sens Italia! Spice di sensazione! Sì, vieni di chiucere la sotto. E' debole! Non resisterà a lungo! Facciamola finita! Sta riaprendo allo stomaco! Preparati! Schiva! Non puoi bloccare un colpo del genere! Via dall'area! Ho scagliato un sigillo nel suo stomaco! Sai cosa fare? Si sta rintanando! Impediamoglielo! Devo spezzare la sua presa! E tu sei d'intraccio! Lassa! Riffa! Riffa! Grazie. Grazie. Lasci fuori! Lasci fuori dal mio corpo! Va! Ecco... Ecco... È fatta? È fatta? È finita. È... È davvero... Finita. È ora che hai quello che cerchi? Suppongo... Che questo sia il momento... In cui io ti perdono... O ti uccido. Hai già deciso. No. Sinceramente... Non posso fare nell'uno nell'altro. C'è ancora una parte di me... Che è così... Arrabbiata! E sarà sempre... Sarà sempre arrabbiata! Ma no. Non sei tu che devi morire. Questo l'ho capito. Senti... Tutto quello che è successo tra noi... Non mi devi spiegazioni. Non a me. Non per questo. Non mi pento di averti salvato la vita. E non mi pentirò mai. Ma la scelta tra la vita e la morte doveva aspettare soltanto a te. Non avrei dovuto privarti di quella scelta. Non. 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 No... Non. Non. Grazie a tutti Ora che sono di nuovo me stessa, dovrò affrontare mio fratello. E poi? Non lo so. Da tempo non avevo possibilità di scelta. Concedimi un secondo per abituarmici. Grazie a tutti.